L'ufficialità arriverà solo dopo l'assemblea del PD, ma è ormai data per scontata la candidatura alla carica di sindaco di Arezzo di Luciano Ralli per lo schieramento del centro-sinistra. Salvo terremoti dell'ultimora a cui comunque la politica aretina ci ha abituato, toccherà dunque al medico aretino il compito di riportare nelle mani del centro-sinistra il comune capoluogo. 63 anni, attuale capogruppo del PD in consiglio comunale, è stato protagonista dell'ultimo consiglio dove sono stati affrontati i temi che oggi fanno tremare i polsi al centro-destra le due inchieste giudiziarie Coingas e Multiservizi. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli si è sempre detto sereno ed estraneo ai fatti, ma ancora la sua ricandidatura non è stata ufficializzata, lui si è detto a disposizione più volte. Che sia Ghinelli o Paolo Ammirati, come si vocifera da tempo il candidato del centro-destra, quella della conquista del comune capoluogo non è mai una battaglia da sottovalutare e il tema delle inchieste giudiziarie, come lo stesso Luciano Ralli auspica, sarebbe bene che stesse fuori dal confronto politico, che deve invece portare su questioni importanti per una città indubbiamente messa a dura prova da tanti eventi, l'emorragia dei posti di lavoro in testa. Io ho posto una sola domanda al sindaco, abbiamo richiesto che lui in sede di consiglio comunale, ma di fatto parlando alla città, togliesse dal terreno, dal tavolo del confronto politico, la vicenda giudiziaria. Cioè noi dell'opposizione, i cittadini di Arezzo, la città deve essere tranquilla che è amministrata con trasparenza. E le vicende che noi abbiamo letto sul giornale, non è che noi sappiamo qualcosa di più di quello che sanno i cittadini di Arezzo, oppongono dei temi di non trasparenza, di rapporti non fiduciari tra esponenti del centro-destra, qualcosa che si può anche ipotizzare reato. Insomma, ci sono delle indagini. Rispetto a questo mi hanno chiesto di togliere dal campo i dubbi, purtroppo molto serenamente, nel senso che io non ho accusato nessuno. Abbiamo piena fiducia alla magistratura, che avrà i suoi tempi. Devo rilevare che il sindaco in quella sede non ha risposto al quesito. Tutti sono rimasti al loro posto e da questo punto di vista siamo rimasti delusi. Insomma, il prossimo sindaco non avrà certo un compito facile. L'auspicio è che si pensi più alla concreta realizzazione dei programmi elettorali, piuttosto che alle alleanze. Coraggio e idee dovrebbero essere i binari su cui condurre Arezzo dal 2020 in poi.